il terzo anello damasco con alessandro barbero strinsi le mani sotto il velo oscuro come mai oggi sei pallida perché gli ho fatto bere aspra tristezza fino a ubriacarlo come posso dimenticare è uscito barcollando storcendo la bocca per il dolore io correvo senza sfiorare la ringhiera sono corsa dietro di lui fino al portone ansimando ho gridato scherzavo è stato tutto uno scherzo se te ne vai io muoio lui sorrise tranquillo e crudele e mi disse non startene al vento buongiorno sono alessandro barbero e oggi vorrei parlare di un libro di poesie le poesie di anna armato va una delle grandi poetesse russe del novecento il libro che offre alle mani è un'antologia pubblicata da inaudi nella sua collana di poesia la collezione bianca e si intitola la corsa del tempo che è il titolo di una delle raccolte di anna in realtà io parlerò appunto un po in generale delle poesie di questa scrittrice che io amo enormemente e al modo in cui genere io amo i poeti nel senso che io non sono un grande lettore di poesia soprattutto non sono un lettore serio di poesia leggo e mi capita di trovare delle poesie che mi piacciono e quelle mi restano impresse e non saprei assolutamente spiegare perché proprio quella poesia lì mi sia piaciuta e tante altre magari no anna armato va è una voce complessa della poesia novecentesca e è una donna prima che una poetessa che ha attraversato tutto il novecento russo il che ha voluto dire fare delle esperienze estremamente diverse anna nasce nel 1889 nella pietroburgo degli zar ed è già una poetessa famosa a vent'anni prima che scoppi la prima guerra mondiale quindi nella società zarista e poi attraversa la rivoluzione attraversa lo stalinismo le persecuzioni la guerra mondiale l'invasione nazista e poi sopravvissuta a tutto questo fa ancora in tempo a vedere a vedere il disgelo la fine dello stalinismo e la gloria la gloria riconosciuta anche ufficialmente nel suo paese e nel mondo in vecchiaia morirà nel 66 riconosciuta ormai e premiata come una delle grandi voci della letteratura novecentesca dunque un altro caso dopo quello di bulgakov di cui vi ho parlato nella puntata precedente di una straordinaria esperienza letteraria che attraversa tutte le atrocità del novecento sovietico io bevo a una casa distrutta alla mia vita asciagurata alla solitudine in due e a te io bevo all'inganno di labbra che mi hanno tradita a un occhio di morto gelo al fatto che il mondo è rozzo e crudele al fatto che dio non ci ha salvati Anna Akhmatova era bellissima era bellissima da giovane e sembra che sia rimasta bellissima anche nell'età matura ha fatto innamorare un'infinità di uomini non è chiaro lei quanto si sia mai innamorata davvero perché ne ha passati davvero tanti era una donna certamente da evitare probabilmente anche se vista da lontano con l'ammirazione che abbiamo per lei credo che ognuno di noi vorrebbe essere stato uno dei suoi amanti ma penso che fosse un'esperienza spesso dolorosa è stata amante di molti uomini celibili per esempio a parigi ancora prima della prima guerra mondiale è stata amante di modigliani che ha fatto molti disegni di lei nuda e gliele ha regalati poi questi disegni si sono perduti tutti fra le persecuzioni la guerra mondiale l'evacuazione da pietroburgo ad Anna ne rimase uno solo che tenne sempre ancora in vecchiaia aveva questo disegno di modi che la ritraeva nuda da ragazza parlo di questo perché l'esperienza dell'amore è un'esperienza centrale nella poesia di Anna Akhmatova mi accorgo che mi vengono in mente cose simili a quelle che pensavo quando cercavo di presentare il fascino di un romanzo come il maestro e margherita anche nella poesia di Anna Akhmatova ci sono queste due dimensioni dominanti l'amore l'amore visto come una potenza sovrumana come una potenza quasi mistica anche se poi è un amore anche molto fisico e carnale si intende ma l'amore dominante e al tempo stesso l'esperienza della storia la storia attraversata la storia del tempo in cui uno si trova a vivere ecco Anna a un certo punto nell'introduzione a uno dei suoi cicli di poesie dice due versi che adesso cito a memoria in sostanza io non sono mai andata via sono sempre rimasta qui qui dove per disgrazia anche il mio popolo stava questa idea di aver attraversato la tragedia il fuoco del novecento e di aver dato testimonianza di questo è forse la cosa il motivo più importante per cui molte poesie di Anna Akhmatova a me che appunto l'ho già detto tante volte lo ridico sono uno storico e dal punto di vista dello storico non riesco a prescindere questo dunque è uno dei motivi per cui tante poesie di Anna a me a me bruciano dentro in qualche modo per cui anche se è difficile parlare di un libro di poesia ecco però ho voluto provare a farlo e dunque in questa in questa puntata di Damasco è sostanzialmente su una serie di poesie di Anna Akhmatova che cercheremo di di mettere l'accento e cadde la parola di pietra sul mio petto ancora vivo non importa me l'aspettavo farò i conti anche con questo in qualche modo e oggi ho molto da fare bisogna uccidere la memoria fino in fondo bisogna far diventare l'anima di pietra bisogna imparare a vivere da capo e se no il sussurro ardente dell'estate è come una vacanza fuori dalla mia finestra io da tempo lo presentivo questo un giorno radioso e la casa deserta sono Alessandro Barbero storico e scrittore di professione e qui a Damasco stiamo parlando insieme delle poesie di Anna Akhmatova la poetessa russa del novecento la poesia di Anna Akhmatova è tutta attraversata dall'amore lo abbiamo detto e dal dolore dolore di amori infelici ma anche dolore di amori distrutti dalla storia dalla storia che lei ha dovuto attraversare Anna durante la prima guerra mondiale sposa un altro poeta Gumilyov un poeta famoso al suo tempo in Russia che ama fino a un certo punto lui è innamorato follemente di lei lei non si capisce lo lascia alla fine accetta di sposarlo non stanno bene insieme nel 18 divorziano nel 21 Gumilyov viene fucilato dalla CK come contro rivoluzionario nel frattempo hanno fatto un bambino l'IF questo bambino sopravvivrà allo stalinismo anche se con grande fatica Anna per tutta la vita avrà un rapporto estremamente controverso doloroso con questo bambino che all'inizio ha quasi rifiutato ha fatto ha fatto allevare altrove il bambino non la vedeva mai sostanzialmente poi quando è stato più grande l'ha cercato hanno vissuto un po insieme litigando poi questo bambino è cresciuto è diventato grande è stato preso di mira anche lui come figlio di un contro rivoluzionario è stato preso di mira anche lui dalle repressioni staliniane è stato arrestato ha passato anni in campo di concentramento senza che Anna sapesse se era vivo oppure no ecco questa esperienza personale è continuamente presente nella poesia di Anna Akhmatova ma è continuamente presente non come lamentela individuale non c'è mai la corda del patetico quello che Anna sa bene è che lei sta vivendo la stessa esperienza che tutti gli altri stanno vivendo nel suo paese che un intero popolo sta vivendo quella stessa sofferenza ma lei che è una poetessa e nell'animo russo nella cultura russa è molto forte questa idea quasi mistica della forza della poesia che è in grado di dare voce anche a chi non ce l'ha che è in grado di esprimere quello che tutti sentono ma non sanno esprimere ecco questa cosa Anna Akhmatova lo sente fortemente sente il dovere di testimoniare lo dico mi viene in mente un personaggio che ha attraversato l'altro orrore del novecento primo levi ecco anche in lui era fortissimo questa spinta no ma per Anna testimoniare non significa raccontare dettagliatamente in prosa significa costruire una poesia che in qualche modo esprime e trasfigura la sofferenza negli anni 30 nel pieno dello stalinismo Anna Akhmatova scrive un ciclo che intitola requiem in memoria dei morti e per cantare il dolore dei vivi ovviamente non è pubblicabile e come allora a volte accadeva questo intero ciclo di poesie viene imparato a memoria dalla stessa Anna e dalle sue amiche fra cui la moglie di un altro poeta Mandelstam un grandissimo poeta novecentesco anche lui scomparso nei lager questo gruppo di donne in segreto impara a memoria questo ciclo in cui si racconta il dolore appunto delle repressioni e dello stalinismo negli anni terribili della repressione ho passato 17 mesi in fila davanti alle carceri di Leningrado una volta qualcuno mi riconobbe allora una donna dalle labbra livide che stava dietro di me che sicuramente non aveva mai sentito il mio nome si riscosse dal torpore che era caratteristico di noi tutti e mi domandò in un orecchio lì tutti parlavano sussurrando ma questo lei può descriverlo e io dissi posso allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che un tempo era stato il suo volto si sta parlando di Anna Akhmatova e di come i dolori della sua vita la fucilazione del marito l'arresto del figlio siano una delle dimensioni dominanti della sua poesia e la cosa sorprendente appunto è come la sofferenza può essere trasfigurata in poesia nella voce di Anna con dei rischi naturalmente perché bisogna stare molto attenti quando si evoca la sofferenza a non cadere appunto nel patetico o nell'eccesso di autobiografismo Anna poi aveva avuto un'esperienza scioccante che adesso proviamo a raccontare durante la prima guerra mondiale lei era già sposata appunto con il poeta Gumilioff avevano questo figlio Liev e nel pieno della guerra mondiale che oggi siamo un po' dimenticati perché le altre tragedie del novecento hanno un po' oscurato la prima guerra mondiale che invece fu percepita da chi viveva allora come una tragedia spaventosa questo massacro di milioni di giovani durato anni nelle trincee ecco Anna Akhmatova che giovanissima è già una poetessa famosa imbevuta di un certo misticismo russo innegabile questa dimensione c'è c'era benché poi fosse una donna di amori violenti e molteplici imbevuta di questo misticismo durante la prima guerra mondiale Anna a un certo punto scrive una poesia in cui si rivolge a Dio e gli dice guarda io mi sacrifico salva la Russia ma io sono disposta a sacrificarmi prendimi tutto prendimi il marito prendimi il figlio purché tu salvi la mia patria ecco questa poesia agghiacciante alla luce di quello che è successo dopo di quello che noi sappiamo appunto il marito che poi viene fucilato il figlio che finisce nei lager staliniani a un certo punto l'altra grande poetessa russa del novecento Marina Zvetajeva che morì poi suicida nel 41 ecco seppe che Anna Akhmatova aveva scritto questa poesia in cui si proponeva appunto proponeva a Dio di sacrificare tutti i suoi effetti purché fosse salva la Russia e Marina Zvetajeva inorridì e le disse ma Anna Andreevna ma cosa ha scritto non doveva non sa che la poesia si avvera sempre ecco in questo c'è tutto il senso che la cultura russa dà alla poesia il senso di qualche cosa di altissimo che mette in collegamento in qualche modo il cielo e la terra ecco in questo paese ufficialmente ateo in realtà poi c'era una sensibilità religiosa fortissima radicata anche fra gli intellettuali fra quelli che in altri paesi invece a quel tempo in genere erano lontani dalla fede religiosa questa dimensione che a me personalmente poi non tocca affatto perché io per esempio non sono per nulla credente e tuttavia è emozionante vedere come possa nascere la grande letteratura e la grande poesia appunto da questa dimensione di trasfigurazione della sofferenza in chiave anche religiosa in un paese che attraversava le convulsioni del novecento ma io vi avverto che vivo per l'ultima volta non come rondine non come acero non come giunco e non come stella non come acqua di sorgente né come suono di campane non verrò a disturbare la gente e a visitare i sogni altrui con un gemito non placato grazie a tutti se ti mostrassero burlona beniamina di tutti gli amici allegra peccatrice di zarskoi e selò cosa succederà alla tua vita come starai in coda con un pacco trecentesima davanti alle croci affondere il ghiaccio dell'anno nuovo con le tue lacrime bollenti là il pioppo della prigione dondola e non c'è un suono eppure quante vite innocenti si concludono là sono sempre alessandro barbero e qui a damasco stiamo parlando delle poesie di anna akhmatova anna akhmatova ha attraversato gran parte della storia del novecento e vissuta fino a 1966 le cose più grandi per riconoscimento comune oggi sono però forse quelle che ha scritto negli anni 30 e 40 quando cioè il suo paese ha attraversato una doppia tragedia prima lo stalinismo e poi l'invasione nazista allo stalinismo anna dedica quello che oggi si considera in genere il risultato più alto della sua poesia il ciclo di requiem ma anche lo scoppio della seconda guerra mondiale e poi l'invasione prima l'invasione nazista della francia l'attacco all'inghilterra questa sensazione cioè che questa potenza malefica stia vincendo ecco prima questo e poi l'invasione dell'unione sovietica da parte dei nazisti dettano a anna di nuovo una serie di poesie altissime un ciclo in particolare vorrei presentare qui il ciclo che si intitola l'anno 40 vorrei sottolineare questo anna akhmatova è una vittima dello stalinismo ha il figlio in campo di concentramento in quel momento e tuttavia quello che è importante secondo me per noi oggi è vedere questa donna che è pienamente consapevole delle sofferenze che sta attraversando il suo paese che tuttavia non perde il senso di ciò che sta accadendo nel mondo non perde il senso del fatto che c'è una tragedia ancora più grande di quella che sta attraversando la russia ed è la tragedia appunto dell'aggressione nazista al mondo questo secondo me è una lezione che oggi è importante sottolineare perché noi tendiamo sempre a semplificare molto le cose a mettere tutto sullo stesso piano ecco e qui invece abbiamo una poetessa famosa nel suo paese da sempre perseguitata ma ancora viva che ha attraversato tutte le sofferenze possibile per la persecuzione stalinista e che tuttavia quando sente che parigi è caduta che londra è bombardata ecco è presa da un orrore ancora più grande e poi in tutti i modi sosterrà come tutto il popolo sovietico sosterrà nonostante lo stalinismo la lotta contro contro un nemico di cui capisce benissimo che è qualcosa di molto peggio a livello a livello di mondo a livello di storia del mondo e così scrive per esempio la poesia che poi fra poco sentiremo la poesia ai londinesi dove dice in sostanza questo ora che vediamo quello che sta succedendo capiamo meglio shakespeare la capiamo meglio la tragedia di shakespeare d'ora in poi anche le sue tragedie le reciteremo in un altro modo e quello che sta succedendo adesso a londra che brucia bombardata dai nazisti anche quelle è come se fosse l'ultima tragedia postum di shakespeare però questa non vogliamo recitarla il ventiquattresimo dramma di shakespeare scrive il tempo con mano impassibile commensali anche noi del tremendo banchetto reciteremo meglio sul fiume di piombo amleto e cesare e lir meglio oggi condurremo alla tomba con canti e fiaccole e la dolce giulietta meglio sbirceremo attraverso la finestra macbeth rabbrividire insieme al sicario solo non questo non questo non questo questo non abbiamo più la forza di recitarlo non questo non questo non questo non è un po' quando seppelliscono un'epoca non risuona il salmo funebre all'ortica al cardo tocca abbellirla e solo i becchini lavorano sodo la faccenda non aspetta e c'è silenzio signore un silenzio che si sente il tempo che passa ma poi lei torna a galla come un cadavere nel fiume a primavera ma il figlio non riconosce la madre e il nipote gira la faccia angosciato e si infossano più in basso le teste e come un pendolo si muove la luna ecco così su parigi perita ora c'è questo silenzio anna armatova che ha attraversato tutte le tragedie del novecento ha avuto una vecchiaia lunga e felice ecco niente bello ogni tanto poter dire queste cose emersa viva dalle persecuzioni ancora conosciuto anni felici negli anni 50 60 quando ormai era riconosciuta anche nel suo paese come una grandissima poetessa era celebrata e coccolata internazionalmente ha fatto in tempo a viaggiare andare in sicilia a ritirare un premio taormina andare a oxford dove ha avuto una laurea onoris causa e poi anche in patria appunto ha vissuto questa vecchiaia straordinaria di questa donna ricordiamolo punto profondamente sensuale che da vecchia aveva ormai più di 70 anni continuava a essere circondata di giovani che la adoravano tutta una generazione di giovani poeti sovietici russi e vissuta all'ombra nel mito di anna armatova e andavano a trovarla stavano con lei l'accompagnavano in giro uno di questi era un'altra grandissima voce della poesia del novecento brodsky josef brodsky che poi avrà il premio nobel era uno strettissimo amico lui giovane di questa vecchia ingrossata poderosa fisicamente che però lui dice non si capisce come era sempre bellissima beveva no naturalmente grandi bevute di vodka brodsky dice cito testualmente lei era una bevitrice formidabile se c'è stato qualcuno che sapeva bere era la armatova e questi giovani hanno continuamente intorno a lei e c'è la storia che anche vorrei raccontare di quando lei sentendosi ormai molto vecchia decide che forse è ora di fare testamento ecco perché lei c'è ancora il figlio con cui però ha litigato litiga sempre continuamente con questo figlio che in realtà un po la odia perché si è sentito abbandonato da lei ci sono questi giovani amici ci sono delle amiche con cui condivide l'appartamento e allora lei decide vabbè forse faccio testamento allora uno di questi giovani di questi ragazzi tutti innamorati di lei la porta dal notaio perché in unione sovietica c'erano anche i notaie ecco si vedono queste cose incomprensibili va dal notaio a fare testamento e poi quando esce molto stanca perché ha dovuto fare le scale e tutto quanto quando esce si rivolge a questo giovanotto che la tiene sotto braccio e gli fa ma di quale eredità parliamo poi quando sarà il momento mettiti sotto il braccio il disegno di modi e fila via questo ultimo disegno di modigliani ecco immaginiamoci mosca nel 66 anno armatova ha in casa ancora un disegno di modigliani che varrebbe sul mercato internazionale un prezzo stratosferico e che rappresenta lei nuda ragazza a parigi nel 14 prima della prima guerra mondiale ecco fa impressione adesso pensare a vite che hanno attraversato in questo modo la storia del novecento e che attraverso gli orrori e le tragedie hanno poi però sempre conosciuto l'amore tu mi hai inventata una così al mondo non c'è non può esserci non la guarirà un dottore e non la sazierà un poeta l'ombra del fantasma ti tormenterà giorno e notte io e te ci siamo incontrati in un anno inverosimile quando si erano esaurite le energie del mondo tutto vestiva all'ulto tutto piegava sotto la sventura e di fresco c'erano solo le tombe senza lampioni era nero come la pece il flutto della neva una sorda notte faceva muro intorno cosa fu quando la mia voce ti invocò quel che stavo facendo io stessa non lo capivo ancora e tu venisti da me come guidato da una stella calpestando un tragico autunno in quella casa svuotata per sempre da cui si alzava uno stormo diversi bruciati quando di notte attendo il suo arrivo sembra che la vita si appesa un filo cos'è il successo la giovinezza la libertà in confronto alla dolce ospite col flauto in mano ed ecco è entrata scostato il velo mi ha squadrata attentamente le dico sei tu che hai dettato a dante le pagine dell'inferno risponde io bene è arrivato il momento di congedarmi io sono alessandro barbeiro ho cercato di presentare in queste cinque puntate di damasco una serie di libri che mi hanno impressionato durante la mia vita credevo che fossero libri molto diversi uno dall'altro invece poi alla fine raccontandoli mi sono accorto che in qualche modo ho sempre raccontato lo stesso libro i libri che mi impressionano hanno tutti una traccia comune evidentemente ma penso che il senso della trasmissione sia anche questo forse e dunque appunto mi congedo e grazie di essere stati con me finora damasco con alessandro barbero letture di alessandro pala collaborazione di mariangela spitella a cura di cettina flaccavento grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.